Per non perdere il valore del ricordo della Shoah bisogna raccontare ai ragazzi l'esperienza di chi ha vissuto sulla propria pelle il dramma di questa tragedia. E oggi alla Cavallerizza del Castello, la rassegna il rumore della memoria, abbiamo qui con noi il signor Dario Foah sopravvissuto a questo stermino che ci vuole raccontare la sua testimonianza. Buongiorno signor Dario. Buongiorno, ma io tutto sommato sono molto fortunato perché durante le leggi razziali vivevo a Napoli dove mio nonno era rabbino capo di quella piccola comunità ebraica. Per cui per mia fortuna non siamo stati deportati perché a Napoli i tedeschi non hanno fatto a tempo a iniziare a fare le retate che poi partirono da Roma perché furono cacciati dalla popolazione napoletana che insosse e li cacciò alla fine di settembre del 1943. Signor Dario, lei quanti anni aveva? Quando hanno promulgato le leggi razziali avevo sette anni. Andavo alle scuole elementari, andavo in prima elementare, dovevo andare in seconda e me lo proibirono. Mi vietavano di frequentare le scuole e quindi ho vissuto quel periodo con una sofferenza di un bambino di sette anni che chiaramente si vede tagliato fuori dai suoi compagni. Non può giocare con gli altri con i quali giocava fino al giorno prima perché quando ho provato ad andare a giocare con i soliti miei compagni mi sono sentito dire che ha detto il mio papà che con gli ebrei non bisogna giocare e mi hanno cacciato. E questo non è certamente paragonabile alle atrocità dei campi di sterminio ma entriamo nel modo di ragionare di un bambino di sette anni che si ritrova improvvisamente additato come diverso e cacciato dal suo ambiente praticamente. Ecco adesso signor Foa lei praticamente porta da diversi anni le sue testimonianze nelle scuole come vediamo anche oggi. E i bambini cosa le chiedono quando rivivono questi momenti che loro purtroppo li leggono sui libri ma le leggiamo sui libri ma le testimonianze sono importanti. Cosa le chiedono? Una cosa che le è rimasta impressa? I bambini ci chiedono di tutto come vivevi, con chi giocavi, cosa facevi finché un giorno un bambino che aveva avuto sette anni perché aveva una scuola elementare mi chiese posso chiederti una cosa? Dì mi ma te perché non sei morto? E allora a quel punto gli ho detto perché se io fossi morto non avrei potuto raccontarti questa storia. E questo bimbetto piccolo piccolo che fece adesso ho capito cosa è successo, grazie. Grazie, grazie mille e abbiamo qui con noi la signora Aida. Aida, vuole lasciarci anche lei una testimonianza? Sì, io mi ritengo di essere stata molto molto fortunata perché non sono stata nei campi di concentramento. però ho sofferto molto perché il mio babbo è stato mandato via dalla banca dall'ordine al domani senza aver fatto niente di male fino a che è arrivato un angelo custode. Cosa vuol dire un angelo custode? Un vecchio compagno delle elementari di mio padre che l'ha incontrato per la strada e gli ha detto vuoi venire? Gli ha chiesto come stavi, come non stavi e il babbo gli ha detto di salute bene però sto malissimo perché sono senza lavoro. E lui senza pensarci niente ha detto vuoi venire a lavorare da me? Il babbo è rimasto un po' così e ha detto certo. E da quel momento lui è stato il nostro angelo custode. Questo signore si chiama Vasco Borgoni, si chiamava Vasco Borgoni e ci ha seguito fino a... Poi siamo... è una storia un po' lunga, un po' movimentata. Il babbo è incominciato a lavorare però a Siena era difficile spostarsi per lavorare e andare nelle altre città e hanno deciso che si doveva andare a Bologna. A Bologna siamo stati per un po' di tempo e poi l'angelo custode ci ha fatto sapere che era meglio cambiare aria. E siamo andati a Teglio a casa del... dove era sfollato lui con la famiglia a casa di Vasco. E siamo stati lì fino a quando il babbo e la mamma non sono scesi a coma e hanno saputo che nel Lago Maggiore era stata buttata tutta una famiglia. Dopodiché c'è tutto un vissuto che è troppo lungo raccontato. La ringraziamo, grazie mille, grazie, grazie, grazie. A voi, grazie.